Come è la prima gara? Come è la prima gara? Mentre eravamo a fare dei corsi su neve e ghiaccio mio padre mi faceva fare qualche piccolo giretto durante la pausa pranzo e da lì è nato un po' tutto diciamo. Dopo ci siamo approcciati alla terra, siamo finiti con un percorso finale terra e poi dopo ci siamo approcciati all'asfalto e nel 2018 è stato molto importante per noi perché siamo riusciti anche a fare molto bene su asfalto, e cosa che per noi era molto difficile perché venendo dalla terra comunque la guida è molto diversa, terra e asfalto. L'abbiamo fatto molto bene ed oggi ci troviamo qua in Peugeot Italia. Nel 2018 abbiamo vinto il Peugeot Competition Top e tutto questo ci ha permesso di essere Peugeot ufficiali. Senz'altro sarà molto importante per noi, cercheremo di sfruttarlo al meglio. Spero che non sia un anno di transizione ma un anno in cui ci porterà grande crescita e noi sogniamo di far questo di lavoro, quindi un domani spero che il 2019 si possa prolungare anche nel mio futuro. Abbiamo comunque effettuato anche qualche gara all'estero, abbiamo partecipato qualche anno fa nel trofeo Peugeot in Francia, bellissima esperienza questa, abbiamo partecipato anche a qualche gara del mondiale, Sardegna, l'europeo che appunto fa parte di una tappa del campionato italiano. Penso che sia comunque già positivo essere presenti nel campionato italiano perché penso sia veramente un percorso formativo. Penso di avere veramente alle spalle persone molto importanti che abbiano grandissima esperienza e quindi per me sarà veramente un anno di crescita, un percorso molto importante. Cercherò di sfruttare al meglio questo e cercare di rubare ogni piccolo consiglio, ogni piccolo anche dubbio che ho in queste persone. Il mio sogno nel cassetto penso a me e tutti i piloti di approcciarsi a un team ufficiale, oggi io ci sono e già questo è veramente per me un sogno. Fin da piccolo sognavo questo momento e oggi ci sono riuscito e spero che sia veramente un bagaglio importante. Innanzitutto ciao a tutti, mi chiamo Nicolò, ho 23 anni e la mia passione per le gare diciamo che nasce un po' per scommessa, nel senso che da piccolo ero appassionato, mi sono sempre ripromesso di correre, ma a 16 anni è cambiato un po' l'indirizzo perché prima era alla guida, poi è passato alla destra e è iniziato un po' appunto come sfida perché era una sfida più con me stesso per vedere se riuscivo o meno ad entrare in questo ambiente e appunto per gioco è iniziato tutto e da lì piano piano, con diciamo anche un po' di fortuna perché quella serve sempre, ho costruito un po' la mia esperienza ed ora siamo arrivati ad essere all'interno di un team ufficiale. L'avere sotto controllo la situazione, il poter dettare i tempi, il poter essere sempre al centro di tutto e sapere di poter essere parte integrante di un equipaggio perché senza il tuo apporto l'altra persona non riesce a esprimersi al meglio, questo penso sia la più grande gratificazione in questo sport, in questa disciplina e per me appunto il poter esprimere tutto quello che ho dentro di me e tutte le mie capacità per quelle che possono essere ovviamente mi gratifica tanto, devo essere sincero. Con Tommaso diciamo che è nato tutto per caso, nel senso che lui è rimasto senza navigatore per una gara che era al di fuori del suo programma e quindi un po' di rintoppo di corsa ci siamo conosciuti per questa gara e ad ora siamo a quasi due anni che corriamo insieme e credo che la sintonia dell'equipaggio sia un po' tutto perché la fiducia l'uno nell'altro è fondamentale soprattutto quando si va forte e naturalmente si prova poco quindi la fiducia è veramente tantissima sia da parte mia che da parte sua e con lui diciamo che è nata una grande sintonia anche perché al di fuori delle gare è un po' come se fosse mio fratello maggiore perché ci sentiamo comunque tutti i giorni e c'è un grande rapporto che va anche al di fuori delle corse anche a livello familiare e tutto il resto c'è veramente tanta stima e tanto affetto e in macchina diciamo che ci sono tanti momenti in cui bisogna capire l'uno e capire l'altro da parte mia conosco i suoi punti deboli come li conosci i miei quindi cerchiamo di farci forza a vicenda e migliorarci in ciò che siamo un po' più carenti il detto che non si smette mai di imparare è sempre vero perché nonostante la giovane età credo che chiunque nel momento in cui approda in un team ufficiale credo abbia sempre da imparare e sentendo anche i piloti ufficiali nel mondiale rally sono sempre a imparare da chi è arrivato prima di loro o anche da chi è arrivato dopo perché ognuno ha dei piccoli insegnamenti da passare agli altri e il fatto di essere in un team ufficiale ci permette sicuramente di crescere sia a livello umano che a livello sportivo e naturalmente l'esperienza che vanta questo team è grandissima e ci permetterà sicuramente di crescere ulteriormente e di perfezionarci in ogni piccolo dettaglio beh credo che il sogno di tutti sia quello di arrivare a correre nel mondiale rally farlo a tempo pieno penso sia proprio il massimo è un sogno che per ora rimane un sogno però non bisogna mai smettere di sognare e ci si prova sempre a migliorare e a dare il massimo in tutto